Da quando sono detenuto, contro di me, opinione pubblica, giornali e televisioni hanno lanciato accuse infamanti, costruito storie piene di fantasia, realizzato processi di condanna senza lasciarmi difendere. È padre Graziano a scrivere queste righe, ancora detenuto nel carcere a Rettino di San Benedetto, nonostante il Tribunale del Riesame di Firenze, con una sentenza del 3 dicembre 2014, abbia concesso al frate congolese gli arresti domiciliari nel convento romano dell'ordine premostratense, con il braccialetto elettronico che però ancora non si trova. E così le porte del carcere rimangono ancora sbarrate per il religioso, che ha deciso di scrivere al ministro della giustizia Orlando per chiedere il trasferimento ai domiciliari. E anche prima della detenzione sono stato oggetto di accuse brutali, quanto non vere, prosegue padre Graziano. La mia vita è stata assegnata in modo irreparabile, sono afflitto ed abbandonato alle istituzioni. Il frate congolese, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, della distruzione o dell'occultamento di cadavere, fa poi un vero e proprio appello al ministro, chiedendogli di prendere in considerazione la sua situazione. E se nella mia condizione ci si trovassi il figlio, di chi ha il potere di decidere? Intanto il legale di padre Graziano Rizziero Angeletti ha presentato nuovamente un'istanza alla Corte d'Assise, richiedendo gli arresti domiciliari per il suo assistito, anche senza il braccialetto elettronico. Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto per ora, cioè quello di ottenere un provvedimento che disponesse gli arresti domiciliari. La questione del braccialetto è una questione strettamente tecnica, io non voglio neppure entrarci perché di questo si è occupato e si sta occupando costantemente l'avvocato Zaccheo, però è certamente molto discutibile lo stato delle cose in un paese civile, almeno per quello che si ritiene essere l'Italia. Ed è sempre Angeletti a farsi portavoce del frate congolese che continua a ribadire il suo punto di vista sull'intera vicenda. Per il religioso non ci sono dubbi, Guerrina è viva. Padre Graziano su questo ha reso un'ampia dichiarazione. In questo momento di Guerrina è fermamente convinto della sua esistenza in vita.